La postura era diventata un problema negli ultimi anni, soprattutto da quando ho iniziato a lavorare molto da casa. Se anche tu hai questo problema, alla fine del video saprai come risolverlo. Intanto, metti un mi piace se ti va. I dolori alla schiena continuavano ad aumentare e non riuscivo più a terminare le mie giornate rilassato. Spesso ero costretto addirittura a stare in piedi per il grande dolore. Ho perso tantissimo tempo a ricercare professionisti nella speranza di trovare qualche massaggio miracoloso. Per fortuna però, ho trovato un'altra soluzione. E da quando ho iniziato ad utilizzare questa comodissima sedia da ufficio, la mia giornata lavorativa si è completamente trasformata. Seguimi per altri video!